TORO GEMELLI Potete contare su una notevole dosi di fascino e di fortuna che sarete in grado di spendere in tutti i campi. Nel lavoro non caricatevi di tutte le responsabilità. CANCRO Le stelle vi invitano alla prudenza. Si profila una giornata un po' concitate e densa di impegni. LEONE La giornata potrebbe riservarvi una bella sorpresa. Tenete quindi gli occhi ben aperti per non lasciarvela sfuggire. VERGINE Giornata ideale per riordinare la casa, per risolvere le questioni rimaste in sospeso, per organizzare al meglio le attività delle prossime festività natalizie. BILANCIA Giornata ricca di soddisfazioni. Giovialità, buon umore e una carica dirompente vi varranno simpatie e consensi in società. SCORPIONE Non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo in alto e va ben oltre la vostra portata. Abbassate il tiro e centrerete un altro bersaglio. SAGITTARIO Avete abbastanza grinta per affrontare i problemi che potrebbero presentarsi e sapete di poter contare sempre sull'aiuto di persone fidate. CAPRICORNO Giornata movimentata, caratterizzata da situazioni ed umori grigi. Avete momenti di vivacità, avvenimenti gradevoli, ma anche imprevisti e malumori. ACQUARIO Giornata piacevole, in cui potrete ottenere buoni risultati in più campi, senza troppo sforzo. PESCI Vi sentite poco lucidi, ma potete facilmente rimediare, aumentando il livello d'attenzione per evitare di inciampare in qualche imprevisto. E anche per oggi abbiamo concluso con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Vi aspetto domani alla stessa ora. CAPRICORNO CAPRICORNO